La Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato questi dati, ovvero che annualmente 60.000 persone muoiono a casa del tumore cutaneo, 48.000 a causa del melanoma e le restanti 12.000 a causa dei tumori non melanoma. Qui nella seguente tabella li vediamo tutti quanti rappresentati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato maggiormente 8 effettivi danni causati da queste radiazioni solari. Le prime tre appunto vediamo come siano il melanoma, il carcinoma squamoso e il baso cellulare, quindi melanoma e i tumori non melanoma e successivamente altri danni causati appunto dalla radiazione solare. Questa tabella evidenzia ulteriormente quello che abbiamo appena detto. Non vediamo solamente per esempio le keratosi o l'eritama solare, ma qui vediamo anche per esempio fotoallergia, fotoinvecchiamento, tutti appunto gli effetti che sono causati, alcuni nell'immediato, alcuni successivamente nel corso del tempo. Quello che oggi vorrei farvi vedere maggiormente appunto è come il melanoma e i tumori non melanoma siano maggiormente evidenziati nel caso di un fototipo chiaro, nelle pelli bianche, quindi sono i tumori cutanei più evidenti. Ma soprattutto vorrei farvi vedere come l'incidenza sia costantemente aumentando, invece di regredire questa va a aumentare. Attualmente sono tra i 2 milioni e i 3 milioni i casi di tumori cutanei non melanoma e all'incirca sono 132 mila quelli del melanoma. Cosa significa? Sono in aumento? Ok, sono in aumento però è importante anche il livello di mortalità, perché il livello della mortalità del melanoma è abbastanza stabile, anche se alcuni studi stanno mostrando come sia anche in aumento, mentre in diminuzione sono i casi di mortalità riguardo i tumori non melanoma. Cosa bisogna dire a riguardo? Appunto che non c'è una corretta, comunque sia informazione, una corretta sensibilizzazione della persona ed è proprio per questo che nasce appunto la nostra campagna sull'esicuro. Allora, qui entriamo proprio nella parte più specifica. Cosa andiamo a vedere? Come ben tutti sapete, le radiazioni di nostro interesse a livello cutaneo sono gli ultravioletti. Abbiamo UVA, UVB, UVC. Gli UVC ancora non sono di nostro particolare interesse perché sono bloccati a livello dell'atmosfera terrestre. Tra qualche anno, quando il buco nello zona aumenterà, parleremo bene anche di questi. Per ora ci soffermiamo sull'UVA e l'UVB. L'UVA è quello che riesce a penetrare maggiormente, ha una lunghezza di onda superiore, quindi che succede? Non si ferma a livello dell'epidermide, ma riesce a penetrare a livello del derma. Cosa significa? Che andrà a effettuare dei danni più in profondità in quello strato termico in cui ci sono delle sostanze funzionali importanti. Cosa significa? Effettivamente non dà un eritema, ma darà dei danni nel tempo, avremo il vero e proprio fotoinvecchiamento cutaneo. Cosa invece non succede? Per esempio con l'UVB, che significa che abbiamo una lunghezza di onda inferiore, ma questo riesce a penetrare unicamente a livello dell'epidermide. Cosa rappresenta? Eritema, scottature, quindi abbiamo un effetto più immediato. Quindi UVB, eritema e scottature, UVA danno nel tempo il vero e proprio fotoinvecchiamento cutaneo. Qui abbiamo riportato invece la classificazione in base al fototipo. Questo perché una pelle di fototipo 1, un fototipo molto chiaro, non risponderà alle radiazioni ultraviolette come una pelle di un fototipo 6, un fototipo afro, quindi un fototipo molto scuro. Perché ho voluto riportarvela nuovamente? Perché allora, innanzitutto vediamo la classificazione secondo Fitzpatrick, che classifica e identifica 6 possibili fototipi. Il fototipo 1 è il fototipo più chiaro, quindi scottature più evidenti, non si abbronzerà mai. Il fototipo 6 è un fototipo più scuro, quindi afro, che si scotta di meno, ma questo non vuol dire che non è soggetto ai danni delle radiazioni solari. Infatti consigliamo sempre un'adeguata protezione solare, che ripeto, è inferiore magari nel fototipo più scuro e è superiore nel fototipo più chiaro, questo perché l'UVA comunque si riesce sempre a penetrare e a dare quei danni maggiori. Dagli ultimi studi appunto, sempre dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato inoltre evidenziato come nei paesi in cui siano caratterizzati dai fototipi più chiari, quindi anche l'Europa, i danni causati dal sole siano essenzialmente i danni di tipo cancro a livello della pelle, mentre i paesi dove prevalgono i fototipi più scuri, quindi Africa, alcune zone dell'Asia o l'America Meridionale, i danni non sono tanto a livello cutaneo, ma sono soprattutto a livello oculare, quindi a livello dell'occhio, oppure abbiamo anche un aumento per esempio del danno a livello della cornea. In base a tutto ciò, lascio la parola alla mia collega Martina che vi esporrà più nello specifico la radiazione solare e i prodotti solari. Grazie, allora buongiorno a tutti e come ha poc'anzi spiegato la dottoressa Tiraboschi, appunto ha detto quanto le radiazioni ultraviolette possano essere pericolose per la nostra pelle e in generale per la nostra salute. Questo però non vuol dire che non bisogna esporsi al sole, ma che bisogna farlo in maniera corretta e soprattutto consapevole, ricordandosi di applicare sempre un prodotto per la protezione solare. Sto parlando, come ben sapete, di un prodotto cosmetico destinato ad essere applicato sulla superficie cutanea con lo scopo di proteggere e difendere quest'ultima dalle radiazioni e dai relativi effetti indesiderati. Come potete vedere da questa immagine, vedete com'è diversa, come cambia l'interazione tra radiazioni e pelle, tra quando questa è protetta e quando non lo è. Quando infatti la pelle non è provvista, non è protetta, le radiazioni UVA e UVB, vedete, penetrano con facilità nella pelle. Viceversa, quando essa è protetta, le radiazioni non riescono a penetrare in quanto vengono riflesse e assorbite, grazie rispettivamente all'azione dei filtri fisici e filtri chimici contenuti all'interno dei prodotti solari. I solari sono sicuramente molto efficaci nel proteggere la pelle dal sole prevenendone i danni, ma da soli non sono sufficienti, specie se utilizzati in maniera non corretta. Questo perché voi sapete che un prodotto solare non può garantire una protezione totale, una protezione completa al 100%, in quanto non è in grado di filtrare la totalità delle radiazioni emesse dal sole. Per questo motivo è bene adottare, accanto al loro impiego, altre misure di sicurezza, come quelle che potete trovare talvolta sulle etichette di prodotti solari, sotto forma di pittogrammi, come questi qua. Cosa stanno ad indicare? Evitare per prima cosa di esporsi al sole nelle ore più calde e più intense della giornata, quindi tra le 11 e le 15. cercare di coprirsi anche con indumenti come cappelli, t-shirt e occhiali da sole. Importante è anche evitare l'esposizione diretta al sole di neonati e bambini molto piccoli, ed infine utilizzare sempre un prodotto solare nella quantità giusta. Ricordo che la quantità minima garantita per un prodotto solare è circa 2 mg per centimetro quadrato, quantitativo pari a circa 6 cucchiaini da caffè. Ovviamente tale quantitativo può essere superato, l'importante è non scendere al di sotto. Dunque, come ho detto poc'anzi, all'interno dei prodotti solari ritroviamo i filtri. I filtri che, come ben sapete, sono regolamentati nell'allegato 6 del regolamento cosmetico, che stabilisce quali possono essere utilizzati e le relative concentrazioni. I filtri solari sono oggi classificati, in base alla loro natura e al meccanismo d'azione, in filtri fisici e filtri chimici. Cosa cambia? Allora, i filtri fisici sono delle sostanze che, grazie alla loro opacità, riescono a riflettere la radiazione, comportandosi in modo analogo ad uno specchio. Tra i filtri fisici più utilizzati in cosmetica c'è il biossido di titanio, seguito poi dall'ossido di zinco. Viceversa, i filtri chimici sono delle molecole che riescono a bloccare la radiazione, assorbendone l'energia. Tale energia verrà poi successivamente riemessa sotto forma di calore o di fluorescenza. Tra i filtri chimici più utilizzati, vedete, ci sono i benzofenoni, gli antranilati, i derivati della canfora, i derivati dell'acido parammino benzoico, salicilati e cinnammati. Tornando un attimo ai prodotti solari, ovviamente affinché questi risultino efficaci, bisogna utilizzarli in maniera corretta. Per prima cosa bisogna evitare di utilizzare solari acquistati nella stagione precedente. Questo perché, come abbiamo visto, contengono delle sostanze come filtri, schermi e non solo, che col tempo possono alterarsi. In questo modo possono andare a ridurre l'efficacia protettiva del prodotto. Infine, è bene applicare il prodotto su tutte le superfici cutanee esposte al sole. Quindi non vanno dimenticate zone quali le ginocchia, il retro delle ginocchia, le mani e i piedi. Importante è anche applicare il solare con frequenza. Non basta, infatti, applicarlo solamente al momento dell'arrivo in spiaggia, per esempio. Bisogna riapplicarlo almeno ogni due ore. Questo perché? Perché comunque il contatto con l'acqua, il sudore, lo sfregamento con l'asciugamano, la sabbia, sono tutte cose che possono andare a rimuovere il prodotto, lasciando la pelle priva di protezione. Quindi, poi, sulle zone più delicate, come viso, collo e décolleté, è opportuno magari utilizzare prodotti specifici che abbiano un'efficacia protettiva maggiore. Ed infine, la protezione va applicata anche quando il tempo è brutto. Questo perché le radiazioni sono in grado di filtrare anche attraverso le nuvole e penetrare comunque nella pelle. Infine, è buona cosa applicare, al termine dell'esposizione, magari dopo la doccia, un prodotto da posole, in grado di decongestionare la pelle, ridandole sollievo e andando a ricostruire anche un po' il film etrolipidico. Come dovrebbe essere il solare ideale? Ovviamente dovrebbe essere in grado di proteggere da entrambe le radiazioni, quindi sia dagli UVB che dagli UVA. Dovrebbe essere ben tollerato, dovrebbe essere cosmeticamente accettabile, quindi buon odore, gradevolezza cosmetica, facile da applicare, termostabile, fotostabile, proteggere, essere resistente dall'acqua al sudore e soprattutto avere un'etichettatura che sia semplice, chiara e comprensibile. Prima di concludere il mio intervento e lasciare la parola al dottor Angioletti, volevo tornare un attimo alla campagna Sole Sicuro. Campagna che ricordo è nata dalla collaborazione tra i DECO ed MGA Cosmetici, campagna che vuole essere proprio un punto di riferimento per tutti coloro che non vogliono rinunciare ad esporsi al sole, ma vogliono farlo in maniera sicura. Tra gli obiettivi di questa campagna c'è ovviamente assicurare una corretta divulgazione di quelli che sono i rischi associati ad una fotoesposizione non corretta, attraverso l'organizzazione anche di campagne educazionali. A tal proposito vorrei dire che tra i progetti che ha i DECO in serbo per il prossimo anno c'è probabilmente quella di realizzare, sempre in collaborazione con MGA Cosmetici, delle campagne educazionali rivolte alle scuole medie inferiori, sempre riguardanti il tema della fotoprotezione e del sole, perché è bene comunque sensibilizzare a questo argomento sin da piccoli. Detto ciò io ho concluso il mio intervento e lascio la parola al dottor Angioletti, Marco Angioletti, dell'azienda MGA Cosmetici. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, sono Marco Angioletti, rappresentante dell'azienda MGA Cosmetici. Ringrazio a Edeco per la possibilità che ci hanno dato per dare ulteriore diffusione di questa campagna informativa per Sole Sicuro. Le due colleghe prima sono state davvero esaurienti fondamentalmente nell'esplicare quelli che sono i contenuti della campagna di informazione. Il mio compito è quello di darvi aggiornamento riguardo la diffusione mediatica che sta avendo questa campagna di informazione, che ha trovato quindi sua nascita principale in una presentazione che è stata fatta nel giugno scorso, in cui praticamente si è stato presentato anche il sito internet del portale informativo appunto sole sicuro.it, in cui praticamente in questo portale abbiamo la possibilità di, il consumatore stesso perché è una campagna quindi rivolta al consumatore finale, ha la possibilità esso stesso di poter individuare principalmente il proprio fototipo cutaneo e quindi in questo modo poter in maniera appunto consapevole come abbiamo detto prima poter scegliere la sua corretta protezione solare. Che cos'è Omia? Omia intanto come potete vedere forse avrete capito è un'azienda di produzione italiana di produzione di prodotti cosmetici, la quale ha sviluppato in collaborazione con Eideco appunto una linea di prodotti solari e in maniera concorda e collaborativa avendo capito la giusta necessità di poter diffondere il messaggio, cioè avendo compreso concordemente che comunque ci fosse una grande esigenza ancora di poter diffondere il messaggio del corretto utilizzo dei prodotti solari hanno dato vita a questa campagna Soli Sicuro che già vi hanno esposto precedentemente le colleghe. Che cosa abbiamo creato in collaborazione? Abbiamo creato questo leaflet informativo che è stato già distribuito in più di 1500 punti vendita della grande distribuzione, farmacie e profumerie e che appunto contiene questo questionario di cui abbiamo parlato prima e tutte le indicazioni che le due colleghe vi hanno esposto prima riguardo il corretto utilizzo dei prodotti cosmetici. Inoltre chiaramente come vi avevo già detto abbiamo realizzato questo portale web dove chiaramente il consumatore ha un'ulteriore possibilità di poter consultare questo tipo di informazioni. Ovviamente la campagna informativa ha dato sbocco anche su quelle che sono le principali testate giornalistiche sia specializzate che di quotidiani per cercare di arrivare in maniera chiaramente più capillare a quello che è il consumatore finale e cercare di diffondere quanto più il messaggio della campagna informativa. Come vi hanno già accennato ovviamente la campagna di informazione non si è esaurita ma è in continua evoluzione tanto che come vi hanno detto stiamo cercando di poter collaborare con il Ministero della pubblica istruzione affinché questo messaggio possa arrivare addirittura nelle scuole medie inferiori. vi invito comunque a venire al nostro stand dell'area espositiva per potervi dare maggiori informazioni visto che per ovvie ragioni di tempo il mio intervento è abbastanza contenuto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie.